Ben trovati da Nico Schiodetto, buon anno a tutti quanti. Condizioni atmosferiche per il nuovo anno, per la giornata appunto di Capodanno, con una perturbazione che ci è interessato nel costo di San Silvestro che rapidamente si muoverà verso est, verso i Balcani. Possiamo notare però come ad ovest rimarrà aperta la prota atlantica. Nel dettaglio ecco di fatti le precipitazioni sul Mediterraneo, con delle piogge che ancora interesseranno Calabria Tirrenica e Campania, meglio sul resto del paese. In definitiva quindi una giornata con nuvolosità irregolare sul basso Tirreno e ancora delle piogge intermittenti, clima ventoso, venti tesi da ovest. Sul resto d'Italia invece giornata abbastanza buona, tra sole e nubi sparse, un netto miglioramento anche al settentrione. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti sull'app gratuita di Trebi Meteo.